Se dico conoscenza, penso alle radici profonde di un albero. Tutto ciò che abbiamo intorno a noi viene dalla conoscenza. Noi dobbiamo essere curiosi. Andare alla ricerca del significato profondo delle cose. Ci deve guidare e insegnare a fare le scelte giuste. Saper trarre delle informazioni e saperle elaborare senza farci condizionare da altri fattori. La conoscenza è la capacità che permette all'uomo di poter comprendere tutto ciò che lo circonda. Per poter diventare una persona significativa e con un posto nella società di oggi. Per inventarci un futuro migliore per noi e per tutti gli altri. Il bozzetto che abbiamo realizzato ritrae come elemento figurativo centrale Atena, Dea della Sapienza, con lo sguardo coperto da un velo di pixel. Vicino a lei ci sono due pianeti, uno d'oro e uno di piombo, che rappresentano il vero e il falso. Sempre dietro di lei abbiamo due mondi, un azzurro che è il presente e un oro che riconduce all'edà dell'oro, quindi il passato. Il presente è avvolto dal passato, ma è anche avvolto da una rete. Una rete che non rende superflua la conoscenza, ma si trova fra noi e la conoscenza. Insieme abbiamo riflettuto sui problemi più urgenti del mondo e come la conoscenza possa aiutare le ragazze a risolverli o almeno migliorarli. Siamo partiti disegnando l'albero della vita, con i cinque rami continenti che rappresentavano i cinque visi dei bambini di etnie diverse. L'abbiamo dismiato con la matita, l'abbiamo colorato con i posteri di acqua e i labili. Un piccolo, grande lavoro di squadra. Il nostro bozzetto presenta un viso principale, quindi una mongolfiera, che vola nel cielo della rete, e un simbolo che è il fuoco della conoscenza e una filigrana che è la rosa dei venti. La mongolfiera siamo noi che grazie al fuoco della conoscenza, appunto, e anche l'utilizzo della rosa dei venti, possiamo muoversi nell'infinita rete delle informazioni. Allora, il bozzetto ha due elementi principali. Il primo è un circuito informatico che rappresenta la società dell'informazione e la circolazione delle idee. E il secondo è un gusto raffigurante un corpo umano che rappresenta il pensiero critico. Diamo vita alla conoscenza che sappiamo oggi. È un valore che permette a ognuno di noi di acquisire competenze che influenzeranno le nostre scelte e i nostri comportamenti. Ci ha dato anche la possibilità di imparare un nuovo linguaggio, il linguaggio della matematica divenziaria, e ci ha fatto riflettere sul valore della conoscenza, conoscere e valorizzarsi. Ulisse è il protagonista della nostra banconota e l'abbiamo scelto perché i personi ti dà più di tutti il desiderio di conoscenza. Il simbolo della nostra banconota è una moneta d'oro per indicare la ricchezza e sopra c'è la lettera gamma, che è la prima lettera della parola conoscenza in greco. Abbiamo scelto questi due simboli per mettere in simbiosi la conoscenza e la ricchezza. Abbiamo disegnato degli uomini che si muovono a fastrani e a lambecchi. Alla fine del processo un grande cervello raccoglie tutte le informazioni e le trasformo in luce. Questa luce è fortissima e proietta mondi e scenari futuri. Abbiamo usato questi colori e queste forme strane perché conoscere deve essere anche allegria e gioia. La nostra banconota è bellissima. In primo abbiamo c'è un ragazzo di colore come simbolo di conoscenza universale. Sullo sfondo abbiamo utilizzato una fotografia dell'edifico della scuola che frequentiamo. Così come il libro è aperto, simbolo del nostro percorso scolastico e la nostra principale fonte di apprendimento. Infine ci siamo innamorati della sezione Aurea, la nostra incona. Il messaggio che abbiamo voluto dare è che la conoscenza è universale e democratica. Vale a dire che non prevede barriere né politiche né economiche né razziali né geografiche. Ho dato una comunicazione importante. Siete vincitori del concorso Inventiamo una Banconota. Oddio! Davvero? Sì! Bello! Ma che bello! È meraviglioso! Sono fiera di voi, vi faccio i miei complimenti. E mi hanno comunicato ieri che abbiamo vinto il concorso. Quello che più mi manca della scuola prima del coronavirus sono sicuramente i compagni di classe. I giochi che potevamo stare vicini e senza la mascherina. Scambiarsi un 5, scambiarsi una penna. La nostra presenza in carne ed ossa, il suono della campanella. I compagni e i professori. Lavorare insieme, guardandoci in faccia, ridendo e facendo battute. La possibilità di confrontarsi con gli insegnanti. La scuola è diventata una seconda casa, cioè una vera e propria seconda famiglia. Mi manca ridere, scherzare, alcune volte anche piangere. E sentirsi liberi di andare a scuola e di imparare tutti i giorni. La scuola a distanza non mi piace per niente. Si può seguire una bella lezione ma non trovare grandi idee. Quindi spero che questa didattica a distanza finisca il prima possibile. Covid sì, ci ha separato fisicamente e questo mi dispiace. Spero che prima o poi usciremo da questa situazione e che torneremo ad abbracciarci ancora più forti di prima. Spero che prima o poi usciremo da questa situazione e che torneremo ad abbracciarci ancora più forti. Spero che prima o poi usciremo da questa situazione e che torneremo ad abbracciarci ancora più forti. Grazie. Grazie.